Com'è andato questo incontro? Diciamo abbastanza bene, è stato un incontro diciamo abbastanza semplice, è durato poco purtroppo, dopo tanta preparazione, tanti mesi di preparazione, tanti sacrifici, purtroppo è durato poco, però va bene così, abbiamo vinto, l'ho fatto in onore di mio nonno, sperando che l'anno prossimo ci sarà di nuovo il memorial di mio nonno, un incontro possibilmente che arriverà fino alla fine, in modo che i sacrifici saranno... Sarà un K.O., dai! No, però alla terza ripresa, non alla prima, perché no, è troppo, troppi sacrifici per niente diciamo, è questo. Ho visto che c'erano un sacco di tifosi che ti fanno per te questa sera. Eh, vabbè, diciamo che Cassino è la mia città e quindi ci sta il tifo dalla mia parte, giocando in casa, poi la famiglia è numerosa e siamo... c'era più gente a favore mio. Va bene, quanto combatterai la prossima volta? Credo a settembre, perché adesso si va in ferie, diciamo, a agosto la palestra chiude e se ne parla a settembre con la preparazione e i primi match tra fine settembre e inizio ottobre. E le delegame di Blablabla saranno con te, va bene? Va benissimo, grazie.